Il mondo dello sport è avvolto da un cupo velo di tristezza mentre piange la perdita di un suo grande campione. Un luminoso campione di skyrunning e scialpinismo, nonché uno degli instancabili organizzatori della Monte Zerbion Skyrace in Valle d'Aosta. Tuttavia, il destino ha scelto una fine tragica per Pellissier, che è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Saint-Vançon, a Osta, dove aveva compiuto l'indicibile atto di togliersi la vita. La scoperta macabra del corpo senza vita del cinquatunenne è stata effettuata da un amico, il quale, col cuore intriso di dolore, ha prontamente allertato le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri. Jean Pellissier, un vero pioniere dell'estremo sport del skyrunning nella sua regione, ha dedicato la sua vita a sfide che sfidavano la stessa natura. Dopo aver lasciato l'agonismo, si era unito ad altri appassionati per organizzare la rinomata gara Monte Zerbion Skyrace. Nel piccolo comune di Martigny, in Svizzera, aveva gestito un negozio di articoli sportivi che portava il suo nome, Jean Pellissier Sport. Nelle competizioni di skyrunning, Pellissier aveva lasciato il segno, guadagnandosi il terzo posto ai campionati mondiali assoluti di Cervinia nel lontano 1998. Inoltre, aveva conquistato il terzo gradino del podio nel circuito mondiale Skymarathon ad Aspen, negli Stati Uniti, l'anno successivo. La sua sete di sfide non si limitava solo ai campionati, in quanto aveva stabilito il record mondiale di scalata in velocità dell'imponente a Concagua in Argentina nel 2000 e si era laureato vincitore in numerose gare di risonanza internazionale. Nel mondo dello scialpinismo, Jean Pellissier aveva dimostrato un coraggio paragonabile, ottenendo la vittoria nella formidabile Patrouille des Glaciers in Svizzera nel 2004 e nel Tour du Grand Paradis. Nel 2007 aveva trionfato al trofeo Mezzalama. La sua perdita rappresenta un vuoto profondo e doloroso nel mondo dello sport e il suo tragico destino lascia tutti i sgomenti di fronte a un talento straordinario spezzato prematuramente.